Anticipazioni dei Dreamer, lunedì 29 giugno 2020. Fabri è nuovo arrivato italiano che ha deciso di accettare che la sua campagna pubblicitaria sia gestita dall'azienda di Jeanne. Nella serata di gala per organizzare l'accordo, Salem si presenta vestita con un bellissimo abito rosso e tutti restano a bocca aperta. Fabri continua a corteggiarla e la gelosia di Jeanne non fa che aumentare. Così il ragazzo la porta via dicendo a Fabri che Salem è la sua fidanzata e lui non ama quando gli altri la corteggiano. Successivamente Jeanne porta Salem nel suo rifugio segreto. Lì le domanda per quale ragione non abbia tentato di allontanarsi dall'uomo che la stava corteggiando. La serata prosegue senza problemi e Salem prepara un'insalata per due mentre Jeanne taglia la legna. I due cenano insieme e le cose vanno per il verso giusto così il fotografo decide di fare una rivelazione. Dice a Salem che è proprio lui l'Albatross che lei sta cercando. La ragazza purtroppo non lo sente perché si addormenta tra le sue braccia.